Ah lo sento, bravo, 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 ma le fa male, nooo, ahiaaa, ahiaaa Bella ragazzi, bentornati nel nostro canale, nel nostro fantastico canale, di nuovo su Resident Evil 5 5, 5, ecco, cominciamo bene, ok, siamo qua un'altra volta su Mercenari, schermo condiviso ormai tanto, ah questa qua è quella che abbiamo fatto la puntata scorsa, 125.000 125.000, tantissimo S grado, le miniere, facciamo le miniere, andiamo in ordine, si, facciamo le miniere, and get the chopper E' un'ok, abbiamo... non ricordo che sta andato, dove è il volgo? Che cazzo... oh cazzo... che mooo... Io, non mi ricordo dove è il tempo ma... Guarda... che tempo combo... Alla like bar! Alla like bar! Alla like bar! Guarda, guarda... Hai problemi? Si! Shot! Vabbè, muoviamoci insieme... Sì, andiamo dentro le gallerie... Sentimmelo dopo... Allora... ma ha fatto un po... Ehm! Cosa? GICHIIII! Devo cambiare! Devo provvenciare! Lo vissero, lo vissero... Le vissero... La, quattacento, luffonco Toglio, la del... Ha fatto una gascorea... No! No! Copriami indietro, io sparo con questa No, sta lì! Lo so, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Mamma mia, non vedo morte, è morto, è morto, è morto Copriami, è morto delle cose Perché raccolgo le bombe a mano? Che cazzo fa? Fra, me, dove? Fra, 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 fra RIMBO! Perchè c'è una bomba? Ecco te Scriapola via, scappa via Fa la toite Fra me Aspetta eh In questo io dovrei che fanno male È moruto È moriscente Ah, io dovevo... Ah, ma fa culo C'è sicuramente l'ombraire, questa terra Consegna... No, no, giusto subito Avremmo fatto un... E comunque... Eh, nuova mappa, nuova corsa Che è... Oddio, ma qua c'è e vai ma quanto è l'ultimo e l'affanculo, qua ci viene si, gimme e per michetti stanno male aiaaa quanto cazzo ci vuole per morire andiamo oh che è? che fino a vado? ooooh ooooh ma c'è sta dietro ma c'è l'esistente sti cosi corre corre il giardino aiii poi c'è anche un bombo io aspetta, batto la scala oh c'è il boss 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 fa ricarica non c'ho più ah forse non vengono c'è proprio ah no questo non massimo no che cazzo? pippo pippo l'ero che non posso prendere non mi ucciderai oddio che fa che fa? che cazzo è? che cazzo è? che schifo ma non me lo ricordavo ti dava affanculo ci stai? grazie corri pro quello li aspetta vieni qua mi giro te copri che cazzo fa? mi ti sa inserci non lo ricordare corri 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 回 corri 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 combattu ma tu però combattu c'è un في Ma ce l'hai un schifoso! Ma io schifoso! Ma basta! Corri un attimo! No, corri, però! Non c'è manco più la diminuzione di te. Ma è puro, ma è puro! Non c'ho una cure! Come? Non ce l'ho io, mi sa. No, non è vero. Non c'è più, non c'è più una cura? Non c'è no. Stiamo ammazzando a sole. Eh, ma mi fai stare io per terra, eh. Ma sono? È morto? Sì che è morto. Ma c'è? C'è? Nerva rossa! E c'è verde? C'è verde, combina la. No, te la do. Eh, dammela un po'. Combina. No! Dalla mesegna! Braaaah! Dietro! Mi hai dato? Sì. Ok. Curri, piace al boss. No, mamma mia. E' fu. C'è, boss. E' fu. E' fu. E' fu. Morto. Ma che... Erba verde. Olì. Oh, sì che ti tirano. Eh ma quello che tirano? Mi ha tappato. Ma ho fatto anche male. Tante emulzioni per il suo sottio. O che si chi ti o... Ma... Vai, prenda. Eccolo l'uomo marcio. Spesce! e qua mamma mia tento non è nemmeno eeeh 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 e ma eeeh sto ragno eeeh 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 ah 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 eeeh ah sono quasi soddisfatto ah è buono non è S però niente non è eeeh eeeh anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo bellissimo video prossimo video ciao rag哥 ciao ciao ciao